Udienza preliminare a Caltanissetta nell'aula bunker del carcere Malaspina per il processo che scaturisce dal filone di indagine denominato Montante Bis. Sono 13 gli imputati tra i quali oltre Antonello Montante anche Rosario Crocietta, ex presidente della regione e vertici delle forze dell'ordine, investigatori di primo piano della DIA. Prima udienza è rinviata per difetto di notifica all'1 febbraio. In aula presenti solo 3 dei 13 imputati. L'ex commissario dell'IPSAP Maria Grazia Brandara, l'ex assessore regionale Mariella Lobello ed infine il capo della security di Confindustria Diego Di Simone Perricone. Tra le parti civili 15 tutto al momento ha annunciato di presentarsi anche Marco Venturi tra i principali accusatori di Antonello Montante insieme ad Alfonso Cicero. L'udienza si è tenuta davanti al giudice Manuela Carabotta. Per gli inquirenti Montante avrebbe gestito un giro di corruzione e avrebbe manovrato l'ex governatore Crocietta e i due assessori burocrati alti vertici delle forze dell'ordine per raggiungere i suoi fini personali. Ruolo centrale è quello del presidente Crocietta che avrebbe nominato in giunta Linda Vancheri e Mariella Lobello su indicazione di Montante, sempre secondo la procura, per ricambiare il finanziamento alla sua campagna elettorale. Un patto corruttivo da 200.000 euro, scrivono gli inquirenti. I PM Claudia Pasciuti e Davide Spina dopo quasi tre anni hanno messo un punto al secondo filone dell'operazione Double Face. Questa è la parte dedicata ai rapporti con la politica che racconta come, secondo l'accusa Montante, avrebbe messo i suoi fidati nei posti strategici delle istituzioni. Un'associazione a delinquere è quella che descrivono i PM, reato contestato soltanto da alcuni.